Prima parlavamo dell'intervento proprio di Bufalino per l'inaugurazione della biblioteca. Mi piacerebbe che lei leggesse qualche frase proprio di quel discorso. Molto bello, tra l'altro gli anni 90 la Sicilia viveva un particolare periodo di mafia, di uccisioni di mafia. Quindi Bufalino vuole dare uno spiraglio, un augurio a questa terra che in quegli anni fu molto martoriata. Bufalino quando arrivò qui in Locchiesiana per fare questa conferenza iniziò dicendo certamente bisogna rendere merito a tutte le istituzioni che si sono interessate per recuperare questo edificio, questa preziosa biblioteca, ma la cosa che mi interessa, diceva Bufalino, che mi interessa evidenziare è che quello che noi oggi stiamo facendo è un vocabolario, un vocabolo che fa parte di un'altra realtà. È un evento religioso. Veramente, quando io questa mattina ho voluto riprendere il testo che avevo detto tante altre volte, ecco, mi ha fatto molto riflettere quello che lui diceva. Ecco, quello di oggi non è tanto una festa che esalta il fausto recupero di un'estimabile bene culturale, ecco, ma quello che oggi stiamo vivendo è un'autentica solennità religiosa, religiosa, autentica solennità religiosa, cioè è un evento che riguarda l'anima, riguarda la realtà spirituale dell'essere umano. E a conclusione del suo intervento, lui disse una frase, premettendo, mi scusi Sua Eccellenza, se io mi permetto di fare questo paragone, questo accostamento, più che paragone, questo accostamento, però diceva, inaugurare una biblioteca è quasi come inaugurare una chiesa. E per quale motivo inaugurare una chiesa o un luogo sacro? Perché la biblioteca è un luogo sacro? Perché in ogni pagina del libro è racchiusa una scintilla divina. Tutti i libri, paradossalmente anche i più sacrileghi, parlano dell'uomo e dunque di Dio, fruttuano come zatteri di salvezza sulla fiumana dei secoli, sono le regioni di angeli in soccorso della nostra fragilità carnale, sono ostie laiche, con cui, mediante una diversa ma salvifica Eucharistia, comunichiamo col divino della luce contro le ragioni della tenebra. E lui queste cose le diceva perché un santo sempre, nella sua relazione, un'altra espressione, i libri sono medicina che guariscono dalla violenza, e con lui faceva riferimento ad un periodo critico che la Sicilia stava vivendo, tante uccisioni, a Palma di Montechiaro, a Gela, un periodo dove... Duro. Duro, molto pesante, dove la violenza veramente era diventata così diffusa in tutto il nostro territorio. E lui diceva, avvenendo verso l'agrigento, attraversando Gela e Palma di Montechiaro, mi levano veramente tutte queste persone. Allora, la medicina per curare la violenza è la parola, la parola sana, cioè è il libro, la parola scritta anche nel libro. Quindi, e qui mi ritornava in mente una frase scritta in un'antica biblioteca dell'Egitto, quando questo storico greco andò nell'Egitto a vedere le cose grandiose fatte dai faraoni. Ecco, sull'architrave della porta d'ingresso scrisse Medicina dell'Anima. Che cos'era questa Medicina dell'Anima? era la grande biblioteca, che è la grande biblioteca che, ecco, serviva proprio per curare l'anima, cioè la dimensione spirituale della persona. Ecco, per questo allora, la biblioteca locchiesiana continua a svolgere una duplice funzione, una funzione di tutela, di salvaguardia, di promozione di questa istituzione, ma anche di promozione di un processo culturale. Cioè, quando il Vescovo consegnò la sua biblioteca alla città, disse che la biblioteca è importante perché forma i cittadini e forma anche i cristiani. Ecco, permette di formare le persone che vivono in questa società e anche di formare, da un punto di vista teologico-religioso, i cristiani fedeli. Quindi, lui vuole la biblioteca per la formazione, per l'educazione, perché sono le idee che muovono la storia, è il pensiero dell'uomo che crea l'organizzazione sociale. Ecco, per questo noi abbiamo questo compito, questo obbligo morale nei confronti del Lucchesi Palli. Lui aveva questa intenzione, questa era la finalità della biblioteca, permettere a tutti di entrare qui, di studiare.